ripatti con le tradizioni e con la bontà della cucina casareccia con una vasta scelta di antipasti primi e secondi tutti di rigorosa produzione propria dei patti lo trovi in via giuseppe licata 49 a sciacca ti aspettiamo oggi parliamo di reddito di cittadinanza ci troviamo presso il centro per l'impiego di sciacca con il direttore dell'unità operativa mario graffeo e con il funzionario piero mazzocchio che si occupa proprio di questo settore specifico vogliamo fare un po' il punto per capire a sciacca quanti sono i percettori del reddito di cittadinanza se ci sono anche dei progetti da parte del comune vediamo che in altre realtà i percettori del reddito di cittadinanza vengono anche impiegati in progetti di manutenzione comunque attività che hanno una rilevanza all'interno del territorio comunale partiamo con i dati con e piero mazzocchio l'ufficio di sciacca si occupa sia di sciacca che di calta bellotta allora piero mazzocchio quanti sono secondo le ultime rilevazioni percettori di reddito di cittadinanza e qual è la situazione in questi due comuni sì allora noi in questo momento stiamo provvedendo a convocare un pacchetto di percettori del reddito di cittadinanza pare al numero di 644 il pacchetto comprende sia i membri che i richiedenti quindi in effetti quando noi convochiamo convochiamo un nucleo familiare il numero esatto comunque dei percettori questo lo può fornire in questo momento lo può fornire soltanto soltanto l'inps diciamo che abbiamo questo pacchetto di 644 persone abbiamo ripreso adesso a fare le convocazioni visto le vicissitudini che ci sono con con l'emergenza coppi di 19 e quindi stiamo procedendo in questo senso per capire un po chi sono le persone che potrebbero essere utilizzate per per i PUC i progetti di utilità collettiva e potrebbero anche essere utilizzati da eventuali ditte private che assumendo percettori del reddito di cittadinanza possono usufruire di sgravi fiscali questi 644 riguardano sia sciacca che calta bellotta esattamente perché il centro per l'impiego di sciacca ha competenza anche su calta bellotta Ecco sappiamo di comuni che hanno utilizzato questo bacino nel vostro territorio è già stato fatto possono essere avanzati dei progetti da parte dei comuni qual è la situazione? Allora i comuni possono sicuramente avanzare dei progetti in questo momento proprio qualche istante fa abbiamo controllato sulla piattaforma MyAmpal dove viene pubblicato il catalogo dei PUC da parte dei comuni che ne fanno uso in questo momento sia sciacca che calta bellotta ancora non sono inserite in questa piattaforma quindi vuol dire che non hanno presentato ancora PUC probabilmente magari li avranno allo studio però allo stato attuale non c'è niente Possiamo indicare quali sono questi progetti che in altre realtà i comuni hanno presentato? Sono hanno delle caratteristiche molto semplici dato diciamo così il target a cui si rivolgono quindi possono essere i progetti per quanto riguarda la riqualificazione a vendiare quindi cura di pubblico, manutenzione per esempio si possono utilizzare nelle biblioteche quindi diciamo cose semplici anche perché i PUC hanno una durata molto limitata come esercizio nel senso che al massimo possono essere utilizzati per 8 ore, 10 ore nel corso della settimana questi lavoratori perché teoricamente sono delle categorie un po' tra virgolette deboli e quindi debbono essere utilizzate con queste caratteristiche i PUC hanno queste caratteristiche Mario Graffio, qual è più in generale la situazione vista anche dal vostro osservatorio in questo territorio? Dico la situazione per quanto riguarda anche la gente che magari si rivolge a voi capisco che in questo periodo di pandemia è anche difficile l'accesso all'ufficio però c'è diciamo un forte bisogno è reso diciamo una situazione resa ancora più difficile proprio dalla pandemia ma questa situazione ha creato tutta una serie anche da parte nostra di non dico di servizi ma di grossi ritardi i grossi ritardi perché? perché il personale è stato messo in smart working fatto il lavoro in turnazione il signor Marzocchi è presente oggi ma ha i suoi turni di lavoro come anche gli altri di rientro questo incide sicuramente su un andamento molto più corretto dell'ufficio ma di conseguenza anche paghiamo lo scotto che l'ufficio se dovesse esserci tutto il personale presente con il ricevimento del pubblico avremmo anche grossi problemi di spazi perché già l'ufficio è un po' sottodimensionato per il personale se dovessimo fare una convocazione a tappeto come si faceva una volta non sarebbe più nelle condizioni di poter garantire le norme minime di sicurezza per via della pandemia che c'è per ora quindi il personale opera in turnazione oggi lo sportello ha le persone che possono ricevere un certo numero di utenti e domani vengono apprezzate in due giornate lavorative tanto per fare un esempio comunque chi vuole rivolgersi a voi può farlo in ogni caso può farlo telefonicamente oppure mandando una richiesta per e-mail anche perché l'ufficio è completamente chiuso quindi se l'utenza ha necessità di noi o ci contatta o eventualmente con e-mail chiede ciò che gli occorre o eventualmente telefonicamente chiedere un appuntamento e-mail chiedere un spazio